Tra un po' è pronto a partire Rovigo Expo, una nuova edizione, cosa significa questa iniziativa per il mondo del commercio? Un significato molto importante, una nuova manifestazione che arriva alla sua diciannovesima edizione, ma soprattutto che segna la ripartenza anche di queste attività nel mondo feristico, nel mondo espositivo, che erano state ferme per tanto tempo dovuto all'incidenza del Covid. Questa sarà un'edizione comunque molto partecipata perché siamo arrivati anche quest'anno a 150 espositori, sono tutte aziende di eccellenza sia del territorio che anche dei paesi, dei comuni limitrofi e anche qualcuno da fuori regione, per cui l'appello è di venire alla fiera con tranquillità e in sicurezza, mantenendo ovviamente tutte le prescrizioni per il Covid, ma comunque dando spazio e dando attenzione alle nostre aziende che hanno tanto bisogno di ripartire e di riprendere. Exporo Vigo si presenta quest'anno in una resta rinnovata, ma in un ambito, come è noto a noi tutti, che è un po' quello trascinato dal Covid, visto che l'anno scorso non è stato possibile la fiera, ma quest'anno, dopo un anno e mezzo di riunioni e di gestioni di queste iniziative sempre a distanza, stiamo tornando finalmente in presenza, credo che sia un segnale importante per tutta la comunità perché è finalmente un ritorno alla normalità. Sì, è una bella soddisfazione, noi siamo ovviamente molto contenti che questo possa accadere, è una manifestazione importantissima per la nostra comunità, è una tappa miliare nell'ambito del progetto Fiera di Rovigo, quindi con un vero piacere che questa mattina presentiamo il programma, un programma particolarmente ricco, che sarà in grado di garantire una vetrina per molte iniziative di natura commerciale e imprenditoriale del territorio, grossa soddisfazione e un ringraziamento agli organizzatori, in particolare a Censer, che anche quest'anno è riuscito a creare un'iniziativa di alto livello.